Musica Nuova edizione della rubrica Lo chiedo al dottore, noi ci ritroviamo ancora una volta insieme con il dottor Alfio Sciuto, chirurgo generale che abbiamo visto ha riscontrato molta attenzione, data anche la frequenza di domande che sono arrivate tramite la nostra mail, che vi ricordo, se sta ora chiocciolasestarete.com E allora in questa puntata c'è il caso che ci presenta Marco da Mister Bianco e ci dice che il suo fisico presenta costantemente delle emorroidi, cos'è possibile fare per questo problema? Beh l'emorroidi, l'ingidenza della patologia emorroidaria nella popolazione è veramente molto alta, colpisce sia gli uomini che le donne, probabilmente un po' più le donne perché ci sono le gravidanze. E' chiaro che qua la terapia può essere di tipo medico, ma si sa che molte volte la terapia medica fallisce. La terapia chirurgica è probabilmente la soluzione migliore, la soluzione definitiva. Noi abbiamo in questa struttura messo a punto negli anni un'evoluzione di quella che è la chirurgia delle emorroidi. Oggi utilizziamo delle macchinette che ci permettono di non utilizzare i punti, ci permettono di avere un posto operatorio più brillante, meno doloroso rispetto a qualche anno fa. E chiaramente da parte dei pazienti abbiamo una maggiore accettabilità di questo tipo di chirurgia. Nel dettaglio per questa patologia c'è bisogno di un percorso da seguire, un ricovero? Sì, noi certamente facciamo la visita presso i nostri ambulatori, poi scegliamo questi pazienti se fare una terapia medica oppure una terapia chirurgica. Nel caso in cui noi dobbiamo fare una terapia chirurgica riusciamo a mettere a punto il meglio per quel paziente, anche perché molte volte associata alla patologia emorroidaria esistono anche tante altre cose, come le fistole, le ragadi. In queste strutture possiamo seguire anche delle conoscopie, per cui possiamo trattare questa patologia a largo raggio. Dobbiamo dare sicuramente delle indicazioni ben precise, non utilizzare il fai da te per questo tipo di problema. Sì, purtroppo nel passato c'erano i rimedi della nonna per quanto riguarda questo tipo di patologia, a me è chiaro che qualcosa dei rimedi della nonna è giusto che si può prendere e si possono utilizzare. Però oggi è la chirurgia che la fa da padrone proprio perché è risolutiva rispetto a questo tipo di patologia. Ci sono dei problemi legati anche all'affetto psicologico, per così dire, all'imbarazzo? Sì, sicuramente, noi soprattutto le donne, ma devo dire anche gli uomini, nei momenti in cui noi dobbiamo fare quella che si chiama esplorazione rettale, che poi è il primo momento per fare la diagnosi, per eseguire una diagnosi più corretta, è chiaro che un po' le persone un pochettino si emozionano, ma voglio dire, è un momento, poi passa perché poi noi riusciamo magari a parlare con il paziente, ad avere un colloquio e quindi tutto questo viene superato. Ecco, ci sono dei rimedi per quel che riguarda anche la prevenzione, la pulizia? Sì, è vero, ci sono dei saponi, c'è qualcosa che esiste veramente in commercio, ma è sempre meglio affidarsi a un professionista in questi casi. Sicuramente interessante l'argomento, ma cosa dobbiamo consigliare per la prevenzione? Allora, per quanto mi riguarda la prevenzione, chiaramente di tipo alimentare come prima cosa, è chiaro che molte patologie emorroidarie sono conseguenze anche di gravidanze, soprattutto quindi chiaramente nelle donne, ma anche negli uomini, nel momento in cui non abbiamo un cibo particolare, un cibo molto piccante, o utilizziamo troppo il peperoncino, il pepe, è chiaro che questi soggetti hanno una maggiore incidenza di patologie emorroidarie, alcuni per esempio hanno una stitichezza cronica perché hanno un colo più lungo, quindi sono nati in questo modo, è chiaro che questi soggetti, nonostante quello che possiamo fare, la prevenzione tramite una diagnostica molto accurata, la visita molto accurata, questi soggetti purtroppo sono soggetti che vanno in sala operatoria. E l'età a suo avviso ha incidenza sulle emorroidi? No, io devo dire che l'incidenza delle emorroidi, dell'incidenza delle fistole, delle ragadi, sono a tutte le età, parliamo anche di ragadi, addirittura nei bambini, emorroidi nei bambini, quindi... Oggi avere questa strumentazione adatta per questo tipo di chirurgia è chiaro che dà un vantaggio al paziente in maniera quasi esagerata rispetto al passato. Io vi ricordo come sempre che è possibile mettersi in contatto con noi attraverso la nostra mail che è sestaora.com Appuntamento rinnovato, alla prossima puntata! Appuntamento rinnovato, alla prossima puntata!